Se non sono bene contributi quando sono disponibile e poi le cose vanno a me Io non ce l'ho con un po' io Non c'è anche l'occasione C'è anche l'occasione C'è anche l'occasione Mi dici che devo capire Ora c'è la festa di oggi Non so, questo l'ho capito Ma io non sono l'occasione Oh buon bolino, bella copia di chiave ti ha fatto te qua, tu mandava la tua e ti ha preso la mia. No, è un'apre più, una mia prima, te tu, ti ha fatto a cambio chiave. Arrivò quelli la seconda, ti penso io, perché questa è un'apre, perché questa è un'apre, perché questa è un'apre, e di Bartolini sa, una vita è fruzza, fruzza, io l'ho rifatta, non neanche pagata io. Non neanche pagata, no, non l'ha fatta. Ascolta domani tu la pegghi da questa fibra, tu mi dà la chiave o tu vieni te? Domattina io devo andare, senti, a San Giovanni. Allora arrivavo, devo andare al punto, come si chiama? Punto? Punto G. Ah, punto, no, 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 punto G, non è punto blu, punto amico. Devo andare al punto amico. Ok, punto nerba, punto in croce. Registrare tutti, tutti e due polmini, fammi il permesso per i cinque e per i sei. Poi, ma comunque noi bisogna levare i martedì mattina. No, mercoledì? Mercoledì mattina. Mercoledì pomeriggio, no. Se la fai a ripetere. No, se la fai a ripetere. 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 Perché? Perché? Perché se oggi c'è l'incontro, ci sono un cestuglio. No, ma non va giù. Ora, ora. E poi? O da andare a Caccia, a Portasordi. Così nasce, ma. Della Sandra Corri. Che c'è Massimo. Che c'è Massimo. Mi sta chiedendo portagli se la voglio ha ricevuta. Lì l'anello funziona bene. L'anello funziona bene. L'anello. 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 Lunedì pomeriggio. Quando vengono alla fine? Una mattina. Andratela tu, dopo. Non vedo la chiesa. Se c'è da frì la stanza lì. Non c'è nessuno. 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 E' caldo. La gente sarà in ferie. In mare. Pugniamo una bottiglia d'acqua. Bene. Bene. Ma allora. C'è entrata bene? No. Che fa? Una gamba di frutta e del di tocca. Si riscate. Eh? Si riscate. Si. Adesso mi sta bene. Io spesso dirò. Di noi. Di noi. No. 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 Lo abbandono. Ma però che soltanto ci si dì là Stai a pensare di un coltino Oh ragazzi, io voglio Dio si fette Si fette, ma si fitte A rompere i coglioni Non posso ditte? Reggimi il dono No, voglio Dio Ma scherzate? Puttelo di là, puttelo di là Ma ve l'hanno detto che il calcio Non era una delle tue per le cattive coglioni Ma è un giro che è stato l'eolino Si Ma vedi che è un cammincino Non è una delle tue per le cattive Non sono degli appare Perché non c'è? Anche se è un'epoca Allora, sei gente Se è un tema che non c'è Non c'è, non c'è Sì Di sapore Di sapore Ti è Grazie. 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 Perché se è lui donna ci seguiamo qui signore anche noi perché non sta accanto. Dio no, ma no se non puoi mi accanto. Paolo, che vuoi di sera c'è da parecchiare in piazza per questa sera, non la fai singa Abbracciare la cosa, la affellissi, fai cantino, è la sigla, quando c'è le donne è impazzisca Da chi ha imparato non so, da me no, io sono bravo Grazie Grazie Bravo, bravo, che caso c'ha il papo nel coglionese? La nonna ha detto, mamma no però Ma il papo, il papo è il coglionese Mamma no Mamma no O dove è il papo, sono in panchina In panchina oggi E il filucino è il vuestano Dei piedali Guardi Ragazzi 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 Allora Vai Grazie a tutti. 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 a tutti.